musica 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 shhh stai facendo il magazine stai facendo tutto shhh 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 fai così piano piano dai va dai va dai va si shhh 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 stai facendo stai facendo stai facendo che parla con la sua fidanzatina che abita di fronte stai facendo chiamala chiamala dite Ale e Alessandra non è meglio che parlate con i segni di fumo tanto spesso non capisce niente che dice che sta dicendo totò totò nonno parla meglio lei nonno 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 vè nonno vè nonno vè nonno vè nonno non ti incazza vè nonno dove è nonno vè nonno dici passò stasera ti vengo a prendere con il mio monopattino ci andiamo a mangiare una pizza e un gelatino nemmeno con la bicicletta la prenderà a prendere se manca purta la bicicletta e basta prendiamo un nezzataterra dai basta stai facendo guarda la un gabbiano ecco con la mia stedicam marco non c'è ma sta attenzione ma che stai parlando l'arba è sporco stai è sporco andiamo a casa andiamo a casa sali su bravo 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 sali fai vedere la tua fidanzatina come lo porti bene vai non sta a far figo di merda vai 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 che ti guarda vai non fare il polastrello vai non fare il polastro vai cammina fagli vedere oh bravo vai vai faglielo vedere come si porta vai e no così devi salire sta è sta è una figura di merda questa sta guardando è una figura di merda si ho capito è munizzo papà là dentro non è il succo a me si ho questo succo dopo ti do una cannuccia così dobbiamo che ti fa la fonte oh si musica 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 musica